Quest'anno sarà la decima edizione del Festival, sono tantissime le novità, la più ricca di sempre. Sono attesi infatti oltre 600 tra speaker e ospiti, più di 250 espositori, oltre 150 tra start-up e investitori che andranno a arricchire quelli che saranno gli spazi fieristici della Fiera di Rimini. No, beh, innanzitutto io mi voglio congratulare con gli organizzatori per questa che è rapidamente diventata la manifestazione di riferimento per questi temi in Italia. Mi piace molto sottolineare una cosa che è il premio We Make Future, che è una bellissima reinvenzione dell'acronimo del Festival, del Web Marketing Festival, e l'attenzione che questo dimostra concretamente ai giovani, all'innovazione e al futuro, che sono le tre keyword di cui abbiamo tanto bisogno. Questa tre giorni quindi si va a connotare un po' come una sorta di vallata dell'innovazione, di festa, festa all'insegna del futuro, festa dell'innovazione, festa della formazione. Un festival che ha come prima novità, come abbiamo raccontato in questo periodo, la location. Questi sono i partecipanti da più paesi, visto che appunto abbiamo già ottenuto lo scorso anno il riconoscimento di festival internazionale, e qui vedete le start-up e gli investitori, 250 considerando anche gli internazionali tra start-up e investitori, quindi qui vedete i principali paesi. Avremo delegazioni di start-up che esporranno i loro progetti e investitori che verranno a incontrare le aziende presenti nell'area espositiva. Qui vedete alcuni dei 250 espositori che saranno presenti all'interno dell'area feristica. Abbiamo attivato questa candidatura negli ultimi mesi dedicate alle start-up a livello internazionale, sono arrivate oltre 950, quasi mille candidature di start-up innovative, dove abbiamo dato 12 sfide del futuro, oltre alla presentazione del loro business plan. Abbiamo selezionato le migliori, alcune di queste pitcheranno sul main stage, le sei finaliste, ora vedremo chi sono. Avremo uno stage dove ci saranno start-up showcase, altre 36 start-up che pitcheranno davanti agli investitori e poi potranno incontrare gli investitori sia italiani che internazionali. Abbiamo anche una parte dedicata alle scale-up, una a tre giorni all'insegna del futuro, all'insegna però del presente, considerando che oggi quando parliamo di innovazione non parliamo solamente di tecnologia, non parliamo solamente di digitale, ma parliamo anche di cooperazione, di pace e di sostenibilità.